ciao amici come avrete capito quando mi vedete con questa luce qua e perché sono in modalità archeologo alla ricerca di qualche reperto nel mondo yamata e che c'entra qualcosa il mondo a yamata e come avevamo già visto ho trovato sta campana di bronzo dei custom mini gig vediamo oggi cosa trovo sempre di giga che io adoro vediamo 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 sento un rumore di una moto roshi in moto ma questo è uno special che si trova dentro una versione special del big shooter della cms che andremo a recensire in un'altra puntata perché oggi andiamo a recensire i roshi eccolo qua trasforma i roshi base personaggio e poi perché lascerò qua dello spazio perché la che le pro ha fatto hiroshi normale hiroshi cyborg 2 ma hiroshi cyborg 1 dove ce l'hanno lasciato cioè tu non mi potevi fare cyborg 1 qui e poi farmi cyborg 2 c'è tu mai fatto hiroshi cyborg 2 e l'uno per fortuna ma questo non recensiremo un'altra volta c'è questa versione delle voto e che va un pelino a compensare il cyborg 1 eccolo qua poi vabbè io ho fatto vedere anche quel custom di cyborg 1 che io adoro preferisco nettamente al cyborg 2 ma questo lo vedremo in un'altra recensione perché un altro prodotto e se è un altro genere quindi via la testolina di giguzzo e oggi cosa facciamo andiamo a recensire loro due della che le pro viniloni normale e due perché l'uno per ora ancora angesta partiamo nel vedere allora gli roshi fatto dalla che le pro viniloni questo qua modalità classica adesso c'è una uscita ragazzi un set di guanti eccezionale con la collanina è una scatola in metallo sempre della che le pro molto bello vediamo qua viso devo dire la verità in questo roshi qua non è un granché la colorazione idem mentre nel vestito vediamo diverse sfumature ma nulla di che potevano farli qua il suo ciondolino con la testa di gig ci stava bene sono persi nelle piccole cose i guanti ci possono stare la cintura anche qua le frange anche ci possono stare va a mancare parer il mio grave il ciondolo con la testa di gig e dovevano curare un po meglio il viso questo qui per quanto riguarda i roshi cyborg 2 sempre della hl pro che l'altra uscita che abbiamo secondo me allora è migliore la colorazione però non mi convince neanche questo vedete qua come ha fatto la parte del petto pettorale qua e anche la schiena non mi convince questo forse anche un pelino troppo larga dovrebbe essere un primo stretta comunque queste due figure della hl pro devo ammetterlo non sono un granché ragazzi non mi convincono per niente meglio i custom mille volte e speriamo che faranno qualche figure migliore ma vedrete il cyborg uno delle voto ai che si trasforma in testa che anche quello è molto più carino concludiamo la facciamo la veloce questa recensione di loro vediamo il peso vediamo un attimo girare il peso per i roshi siamo a 106 grammi vediamo i roshi cyborg 2 101 grammi e che dire amici purtroppo questa è l'unica cosa che abbiamo come figure di i roshi ci dobbiamo accontentare comunque sono bocciatini bocciatini non sono un granché video anche tu mostro di roccia sono bocciati sono bocciati cos'è sta roba cos'è sta roba madonna mia mi sgretolo solo a guardarle davanti sono arredi ma dai una sufficienza una sufficienza proprio streaming sita ma data dal fatto soltanto perché non c'è nient'altro e quindi ci dobbiamo accontentare tenerci di così come li ha fatti hl pro sperando che qualche altra casa le faccia in versione nettamente migliore e soprattutto che le faccia tutte e tre non ci lascia indietro se borguno anzi speriamo che almeno la che le pro abbia il buon senso di farci il cyborg uno che ancora a tutt'oggi manca non si vedono neanche foto di imminente uscita niente proprio cyborg uno è perso e perso per strada diamo a concludere che sono due sgorbi questi qua in fila e lo asce su la parola via poi up e concludiamo a e che dire finiamo questa super veloce recensione delle due versioni qua di roshi normale e cyborg 2 perché l'uno si è perso l'uno si è perso da qualche parte sta che le pro ancora non va fatto ma se non lo fa in fretta stacca le prose cosa faccio adesso sono uscite i guanti mi mette i guanti la testa c'è qua vedete la testa c'è e mi trasformo io a la vita speriamo veramente che fanno subito cyborg uno almeno per completare la serie tutte e tre sarebbe molto gradito comunque bocciatina queste due uscite qua questi due vinironi perché li potevano fare veramente molto meglio in tutto e quindi su queste due cose qua non ci siamo secondo me però meglio che niente ci accontentiamo un salutone spero che la recensione vi sia piaciuta mi raccomando se vi è piaciuta la e car video pollice alzato e iscrivetevi al canale perché ne vedremo delle belle ciao